Durante la fase luminosa della fotosintesi, la luce catturata dalla clorofilla e dai pigmenti accessori eccita, caricandolo di energia, uno degli elettroni presenti in queste molecole. Gli elettroni carichi di energia possono seguire due strade alternative. Nel primo percorso, gli elettroni eccitati della clorofilla vengono inviati ad una catena di trasporto degli elettroni dove cedono progressivamente energia formando ATP. Alla fine del percorso, gli elettroni, ormai a bassa energia, tornano alle molecole di clorofilla che li avevano ceduti. Nel secondo percorso, gli elettroni eccitati della clorofilla vengono trasportati fuori dal tilacoide per essere utilizzati nella formazione di NADP ridotto. Gli elettroni a bassa energia necessari per ripristinare quelli ceduti dalle molecole di clorofilla vengono ricavati dall'ascissione dell'acqua da cui si ottengono anche idrogeno, usato per formare NADP ridotto, e ossigeno che viene liberato.